Una bellissima mattinata, la prima uscita di Stop Secret nel mondo degli eventi. Noi siamo molto contenti, sia io sia Cosimo, della riuscita di questo incontro che abbiamo fortemente voluto su un tema importante per il mondo delle investigazioni, per il mondo delle informazioni commerciali e anche per quello della gestione del credito. E cioè questa riforma della giustizia che dà, per il momento sulla carta, dei nuovi poteri agli ufficiali giudiziari e poterne parlare con loro, con gli ufficiali giudiziari, poterne parlare con il garante della privacy, con il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, amministrato della giustizia, con l'onore Beretta della commissione giustizia, penso che abbia rappresentato per gli operatori presenti, più di 350 iscritti e grazie per aver aderito così massivamente alla nostra iniziativa, ecco credo che abbia rappresentato un momento di incontro importante. E l'ultimo grazie lo voglio dire a quelle sigle associative che hanno creduto in noi e che ci hanno voluto dare il loro patrocinio, oltre ovviamente agli sponsor che ci hanno supportato significativamente per realizzare questa mattinata. Grazie quindi a Federpol, grazie all'ACMI e grazie alla UIRS e grazie anche a Cosimo. Aggiungo qualcosa anch'io dicendo che è stato un evento diverso da tutti gli altri, ma l'abbiamo voluto appositamente così, per differenziarci dagli attuali eventi che ormai seguono delle logiche standardizzate. Abbiamo voluto fare in modo che tutti gli interlocutori partecipassero in maniera attiva coinvolgendo tutta la filiera del credito. È la prima volta che nel mondo del credito diamo parola agli ufficiali giudiziari che di solito sono stati lasciati all'attere del processo, quindi sono molto soddisfatto e le sorprese non finiranno assolutamente qui. Grazie, arrivederci e alla prossima. Ci vedremo presto con il prossimo evento. Stop Secret. Grazie a tutti.